Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli dei Verdi per ricordare la figura di un grande intellettuale Alberto Asor Rosa che oltre a essere un critico letterario, un docente di lingua italiana e un intellettuale di grande spessore è stato anche un ambientalista, ha fatto tante battaglie per l'ambiente. Allora, lei lo ha conosciuto bene e voglio sapere che ritratto può fare di questo di Alberto Asor Rosa al di fuori dello schema di profilo intellettuale. Io la prima volta che ho incontrato Asor Rosa era nel 2005, lo incontrai nella sua casa vicino al Vaticano e per parlare ovviamente della sua battaglia a Monticchiello c'era una lottizzazione contro la quale lui si stava battendo in difesa del paesaggio della Val d'Orcia. La prima volta che lo incontrai avevo un senso di timore reverenziale perché io ero cresciuto leggendo i suoi libri, la famosa storia della letteratura italiana di Alberto Asor Rosa visto sempre come un qualcosa di imponente, un grande intellettuale e avercelo davanti mi creava un effetto, come dicevo prima, di timore reverenziale. Era una persona assolutamente amabile, sensibile, parlavamo molto di come difendere il paesaggio e anche della sua critica rispetto al suo partito di provenienza che era il Partito Comunista Italiano riguardo al fatto che non aveva a cuore a suo tempo il tema della difesa del paesaggio. Quindi lui considerava una parte della sinistra, quella erede del PC, come disattenta da questo punto di vista? Insomma la battaglia di Monticchiello, quella lottizzazione, lo provò molto, lui fu molto attaccato per quella battaglia però fu animatore di tanti convegni sulla difesa del paesaggio in quel periodo e non solo in quel periodo. Se ne va un grande intellettuale, una grande persona, insomma, tanti studenti, non solo italiani ma tanti, tanti studenti sono cresciuti con i suoi libri alle università. Ma anche chi non era studente universitario non poteva leggere la storia della letteratura italiana di Alberto Sarosa. Come ha trovato il fatto che lui era stato eletto deputato e quando venne posto di fronte all'alternativa se continuare a fare il docente universitario, di mettersi e fare il deputato, decise di fare il professore universitario. Questa cosa mi raccontò questo fatto perché io quando andai a trovarlo ero deputato e mi disse, mi raccontò questa cosa, mi mi faceva molto impressa, mi disse per me l'università è la vita, per me l'università è la politica, lì dall'università posso fare la vera politica. Il fatto che aveva avuto così tante difficoltà col Partito Comunista non che avesse avuto delle rotture vere e proprie ma che non si considerasse proprio, si identificasse proprio col Partito Comunista che cosa vuol dire rispetto a tanti altri intellettuali che lui manteneva una sua grande autonomia intellettuale. Assolutamente sì, questo è il grande pregio di Alberto Sorosa un grande intellettuale, un mago di sinistra e però che affaceva e ha fatto della libertà del suo pensiero un elemento di quella critica che poteva anche aiutare il suo partito che è stato il suo partito di riferimento, il vecchio Partito Comunista Italiano a cambiare. Poi nel periodo in cui l'ho incontrato io non c'era più il Partito Comunista Italiano però ha incontrato ad esempio la grande questione ambientale, la difesa del paesaggio che era un elemento che lui ricordava, mancava molto a quel pezzo di sinistra per far fare quel salto di qualità culturale che nella società allora lo richiedeva ma già da giorno lo richiede adesso. La capisce la sua durezza nei confronti di Berlusconi? Lui fece un appello molto duro contro Berlusconi. Sì, sì, la capisco e la condividevo pure perché Berlusconi ha rappresentato diciamo quel mondo che attraverso la capacità di possedere reti di comunicazione poi in realtà ha portato avanti progetti che solo dal punto di vista ambientale rappresentavano, come dire, i condoni di Rizzi regolano la firma di Berlusconi. Chiarissimo. Allora, grazie ad Angelo Bonelli dei Verdi.